Giovedì pomeriggio arriva come sempre l'appuntamento preciso puntuale alle ore 17 con Infodemia E con Rosy Ciccarone E con Roberto Leone Allora, cara Rosy, cara Rosy, come ci possono contattare? Io lo diciamo subito Assolutamente sì, come sempre potete contattarci tramite i nostri social Quindi spulciate la nostra pagina Facebook Spulciate il nostro profilo Instagram e Twitter e il nostro canale YouTube Iscrivetevi, azionate la campanellina che tanto vi piace Insomma, scriveteci su WhatsApp al 32753-29058 E visitate il nostro sito www.rogioswingsat.com Dove troverete anche la sezione podcast per ascoltare tutte le puntate che vi siete persi Bene, 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 di cosa parliamo oggi? Qual era la domanda? L'argomento tanto atteso per questa settimana erano le vostre vacanze flop E noi lo scopriremo subito dopo cosa? A nostra buona musica Siamo del rientro della nostra buonissima e bellissima e... Eissima Qualsiasi cosa che sia conissima di positivo musica Infatti, infatti, infatti Sapientemente scelta come sempre ogni settimana da... Noi Perché tanto... Noi siamo La puntata è nostra, decidiamo un po' noi cosa mettere, diciamo mi sembra giusto Cominciamo a parlare di tutti i vostri messaggi che ci sono arrivati Come sempre erano tantissimi, quindi abbiamo fatto una... Una scrematura, diciamo Esatto, come il latte, come il latte scremato, insomma Ecco, ecco Non parliamo di cibo che sono a dieta ancora, quindi... Va bene, va bene, dai Vacanze flop, vediamo cosa succede Ci scrive la prima utenta Sono riuscita a stare per due settimane in un paesino della Calabria A casa al mare dei miei zii Il problema di questa poco nota, e li sottolineerei anche ridente, località marittima Poco nota e poco ridente oppure poco nota ma ridente Questo dobbiamo scoprirlo Non lo so Va bene E che il cittadino più giovane aveva 65 anni Per una ragazza giovane come me era assolutamente noioso Fu proprio in quella vacanza che scoprì il mio amore per l'alcol Ah, vedi, vedi, vedi Non tutto il male viene per nuocere Qualcuno viene anche affogato nell'alcol, hai visto? Visto Si affogano me li dispiaceri Però c'è per esempio una zona della Calabria Molto bella, molto bella una zona della Calabria Dove su... c'è una vecchia leggenda praticamente Dove su un piccolo dirupo proprio a... Com'è che si chiamano? Una scogliera, ecco A contatto col mare Quindi è quasi inaccessibile Esiste un nido di Calandrella Quindi... Stai ridendo È inutile che fai finta di no Amm... Mico ho detto falangina Calandrella ho detto Oh... Va bene, va bene, va bene Fatto anche oggi, eh Quindi non crediate Ok È stato meno spasticato Mentre eravamo insieme Una sigaretta Senza mascherina Senza nulla Quindi... Parliamo del presupposto Se devi fumare, amore mio Vai a casa tua Fuma sul balcone Se non vuoi vedere nessuno Quindi... Vabbè... E pace Niente, niente Volevamo rendervi partecipi di questa No, perché anche nella nostra vita Il trash c'è Esiste Esiste ed è molto incisivo È dietro l'angolo praticamente Com'è un'altra cosa che è dietro l'angolo È la nostra buonissima musica Ritorniamo da questa bella carrellata musicale Per parlare sempre delle vostre vacanze flop E purtroppo siamo in un periodo In cui non sappiamo se si riuscirà ad andare in vacanza Non si riuscirà ad andare in vacanza Noi speriamo di sì Come disse Battisti Lo scopriremo solo di vento Eh, ma noi speriamo di sì per due motivi Uno, perché così andate in vacanza voi Due, perché così noi andiamo a Lavorare e farvi divertire Per farvi divertire nelle vostre vacanze Quindi speriamo che si possa Lavorare almeno quest'estate Con la speranza che non ci sia La nuvola di Fantozzi Che vi porta a sfiga dall'inizio Alla fine della vacanza Come in questo caso Oppure che qualche genio Non faccia il libero a tutti Come ha fatto l'anno scorso E quindi poi a ottobre Ci ritroviamo da capo tutti in casa Punto e a capo Però ci scrive quest'utente A proposito di nuvola di Fantozzi Diventa ufficialmente una vacanza di merda Quando parti in vacanza con la tua fidanzata E ogni giorno le succede una Giorno 1 Multa Giorno 2 Foriamo la ruota della macchina Giorno 3 Ci spaccano il parabrezza Giorno 4 Intossicazione alimentare Eh mamma mia Giorno 5 Perdo il portafoglio e faccio la denuncia Giorno 6 Piove Giorno 7 Ritrovo il portafoglio e perdo mezza giornata Per ritirare la denuncia Giorno 8 Torniamo a casa che è meglio Fantastica È proprio la vacanza ideale questa Donna Porello C'è da dire che penso che più sfigati di così si muore Ma ci mancava solo quelle realtà Non lo so Tipo investiti da Travolti da un Dallo tsunami Sarebbe arrivato lo tsunami in Italia Com'è Travolti da un Vabbè Nel corso di agosto Nel mare di agosto Non mi ricordo Era il titolo di un film lunghissimo Era più lungo il titolo del film A dire la verità Però va bene Film bellissimo Tra l'altro Allora Io Nel frattempo Sappiamo a che punto è arrivata la famosissima E secondo me Vabbè Se dico inutile poi mi dicono che sono razzista Quindi Legge Zan 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 E' stata ufficialmente Zan 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 Calandrizzata 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 Non era calandrizzata No Ho avuto un momento di sconforo Il mio cervello C'è Ha fatto flop Ha fatto flop pure il cervello Mi sa sentire le avventure dei mago zurli qua Allora Quindi a che punto siamo E' stata messa in calendario Per fare cosa? Per essere approvata Ah pensavo venisse La giornata mondiale Dallo zan Allora per quanto mi riguarda Se può essere utile Per tutelare in qualche modo Le Come si dice Persone un po' più soggette a violenza Ok Ma partendo dal presupposto che Le leggi già ci sono A parte che le leggi già ci sono In realtà E' tutta una questione che sta alla base No? Il rispetto comunque è una cosa che deve stare alla base Di tutto sempre Un attimo di education L'altro giorno L'altro giorno vedevo Pio e Amedeo Con la loro trasmissione Bella Tra l'altro Mi è piaciuta Molto trash E quindi a me il trash piace Ma se l'hai capito E dicevo E' arrivato a un certo punto Però Amedeo ha fatto una riflessione importante Lui ha utilizzato le due parole Negro e nero Ok? E dice Non è la G all'interno della parola Che crea il problema E' l'intenzione con la quale la dici Assolutamente Penso che per qualsiasi tipo di violenza verbale o fisica Non è in realtà il fatto che ci sia qualcuno Che ti dica no, non si fa Deve essere proprio intrinseco all'interno di noi Il fatto che non si fa Spesso e volentieri I primi che mettono legge su determinate cose Contro la discriminazione razziale Sono i primi in realtà Che poi contraddicono la sessualità Esattamente Quindi sono per un mondo senza etichette Senza stare a badare la pelle del colore La sessualità La religione Di qualsiasi essere umano presente sulla faccia della terra E con ciò voglio semplicemente augurarvi buona pubblicità Ritorniamo in studio Mentre vi dico che nel frattempo Nelle pause tra i talk Rosi fa le imitazioni Prima ha fatto l'imitazione di un rutto Ve lo dico chiaramente Ormai mi hanno dato anche l'imitatrice Posso fare l'imitatrice nella mia vita Ci sto pensando Comunque l'imitazione del rutto gli viene bene Almeno quella Allora andiamo avanti con i flop Le vostre vacanze che sono andate veramente male Certo qua ce n'è una veramente breve coincisa Vacanze in crociera Mare sempre agitato E io sono stato tutto il tempo male di stomaco Ah mamma mia Allora io mi ricordo Quattro ragazzi con l'antara Le prime volte che ho preso la nave o una barca o qualcosa del genere È stata una tragedia perché stavo sempre male di stomaco Anche col mare piatto io stavo male di stomaco Poi qualcuno mi ha spiegato che comunque è una questione psicologica Quindi se tu pensi che ti verrà il mal di mare Molto probabilmente ti verrà il mal di mare A me non è mai successo Perché sono strong Io non ci pensavo in realtà Infatti è proprio quello il segreto Non pensarci Allora se uno non ci pensa Non gli viene Molte volte mi sono trovato a fare anche Lo stretto di Messina praticamente Per lavoro perché andavo Facevo un lavoro che mi portava ad andare abbastanza spesso in Sicilia E una volta abbiamo trovato un mare Cioè sarà stato forza 2000 Cioè noi nel traghetto dovevamo stare tutti inclinati in avanti Perché se no non riuscivi a stare in piedi Cioè praticamente perché non c'era posto per sedersi Queste sono le mie piccole avventure Le avventure di Roberto Eccole Ci scrive un altro utente Che ci dice? Ci scrive vacanza di merda E quando pensi di aver prenotato in un bel posto Ma quelli della struttura usavano Photoshop Ah questo succede un sacco di cose Allora ragazzi il 90% delle foto Di luoghi di vacanza Di ristoranti Sono ritoccate Vi sveleremo questo nome Questo arcano Tant'è che vengono dei fotografi Apposta a fare le fotografie Ma non perché Gli altri non siano in gamba Ma perché devono prendere proprio quelle angolature Quei colori Da far sembrare un albergo a due stelle Praticamente cinque stelle lusso 52 stelle Fanno sembrare Cioè fanno sembrare bello anche me in fotografia Quelli Quindi vi lascio Vi lascio immaginare la loro bravura Quale può essere Quindi Va bene va bene In tutto ciò noi vi lasciamo ancora una volta Con la nostra buona musica Jingle bell Jingle bell Non lo so perché l'ho detto Però mi Si proprio Giusto in tempo Sempre sul pezzo Mi andava di dirlo Siamo tornati ancora una volta Qui Non dalle vacanze Non dalle vacanze Purtroppo Però siamo tornati da Una bella serie di musica Ecco Oddio Non si può dire quello che hai detto Però va bene Non fa niente Vabbè Tanto si capisce Il concetto Tu butta vocali e consonanti a cazzo Non ti preoccupare Loro capiscono Ed qualcuno che traduce per me C'è Samo continuando a parlare Delle vostre vacanze flop Ci scrive quest'utente Porto in vacanza in Grecia Con i miei amici Per una settimana Con il consenso Della mia ragazza Che durante quella settimana Ha deciso di tradirmi Con il suo Migliore amico gay Ecco Perché ti ha dato il consenso Più che altro Certo Non tutto Allora Già il fatto che uno Debba chiedere Il consenso Alla propria ragazza Magari ti sta bene Non è che Non posso andare Ti sta bene Chiedi il consenso Alla tua ragazza A parte il fatto che Andare in vacanza Con la propria ragazza Ci sta pure Però magari Uno dice Vabbè Magari passi Vita morta Miracoli Con la tua ragazza A momento di svago Con i tuoi amici Ci sta Assolutamente Sì Voglio stare un po' con i miei amici Ma chiedere il consenso Alla tua ragazza E poi Ve la fotte per l'educazione Sto ragazzo Sto grande amico Tanto gay Non era Se proprio Diciamo Vabbè Metti che avrà fatto Un test sociale Per vedere Quanto Proprio su di lei Doveva fare L'esperimento sociale Dico io Non poteva andare A sperimentare Da un'altra parte Non si sa Non si sa Nel caso Dico a questo Se la tua ragazza C'è ancora Sono gay Se vuoi sperimentare Sai com'è Vai Ci scrive un altro utente Pensavo di andare in vacanza A rilassarmi Poi ho capito Che non mi sarei mai potuto rilassare Perché mio figlio Mi portava sempre al miniclub E mi obbligava a ballare La baby dance È giusto È giusto È il compito dei genitori Quello Ah Lì Che ti pensi Schiavizzati A ballare la baby dance Con questi animatori Che tra l'altro Incitano i figli A fartelo fare Quindi Bravi gli animatori Bravi Bravi Poi mandate il curriculum Vediamo un attimo Bella gente Bella gente Bella gente Come tutte quelle che sta passando davanti ai nostri studi Perché Come sentite Bobo Bobo c'è Sta dando del suo Non lo vedete Ma Bobo c'è Allora 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 Tra l'altro Vorrei sottolineare il fatto Che se uno deve andare in vacanza Per rilassarsi Perché va in un villaggio con animazione C'è proprio l'antitesi E' proprio l'antitesi Cioè Io a questa domanda Sono un po' come Tiziano Ferro Non me lo so spiegare Andate in una baita di montagna Da soli In un eremo Da soli Vi state lì Il bambino lo chiudete in una gabbietta E quello sta tranquillo Cioè Non lo so io Bambino in cantina Va bene Va bene Va bene E noi invece Cosa abbiamo a questo punto? La nostra pubblicità E sì Che bello Che bello Che bello Che bella questa pubblicità Questa musica Queste scelte musicali Ma anche le voci delle pubblicità Mi sembrano molto interessanti Quasi così le ingaggio Infatti Infatti Io direi proprio Alla voce femminile Io direi Ma secondo me dovresti fare le pubblicità tu Ok Come è stato già detto Tra l'altro Sì Allora Andiamo ancora con le vostre vacanze flop O i flop Che sono Successi Nelle vostre vacanze Durante le vostre vacanze Ci scrive questo utente La vacanza flop È quella che ho dovuto annullare Perché quattro giorni prima della partenza Sono risultato positivo Per fortuna Asintomatico Però lui è stato molto coscienzioso Intelligente da fare il tampone Perché ha fatto il tampone Prima di partire Per Ecco Piccola parentesi Robi e rosi per il sociale Se dovete partire da qualche parte Fatelo un tampone Fatevi il tampone Partite solo Se siete sicuri Di essere negativi Perché non è tanto per voi Perché se siete stupidi E volete morire Sono problemi vostri Però all'interno delle strutture turistiche O all'interno C'è gente Che magari ha ancora voglia di vivere Quindi Assolutamente E che magari è lì per lavorare Quindi Anche quando Nelle strutture turistiche Vi chiedono Di prendere la temperatura Non lamentatevi del fatto Che bisogna prendere la temperatura Si prende e basta Perché bisogna farlo E punto Amen Bisogna rassegnarsi a questo Purtroppo dal 2019 La nostra vita Da questo punto di vista È cambiata E dobbiamo accettarlo Quindi Ma Chiaramente con la speranza Che prima o poi Le cose tornino ad essere Come erano nel 2019 Ah beh Detto ciò Continuiamo ancora A parlare Dei vostri messaggi Cioè A leggere i vostri messaggi Aspetta che mi è entrato Un disco volante Nell'occhio Ci scrive questo utente Prendo in affitto Una casa al mare Per due settimane Con la mia famiglia E il nostro vicino Di appartamento Aveva allestito Casa sua Come se fosse stata Una casa del piacere Quindi Ogni sera Partivano i concerti Vietati ai minori A volte si riusciva A percepire Anche la posizione In cui erano E scrive Ah già Ogni sera Cambiava la cantante A parte il fatto Vicino di questo signore Io ti stimo E ti incoraggio A fare Queste cose E poi soprattutto Non è tanto La casa tua Che mi interessa Caro utente Che ci hai scritto Ma La casa dell'altro Il cognome Del vicino Più che altro Vorremmo sapere Perché sai Certe amicizie Vanno coltivate Un po' come i funghi No A parte il fatto Che le faceva addirittura Cantare Quindi Cioè Hai preso la casa Accanto a Rocco Sifredi Cioè Dove l'hai presa Non Vabbè Ok Non ce l'ha voluto dire Non ce l'ha voluto dire Ma noi vi vogliamo dire Un'altra cosa importante Che sarebbe Che adesso C'è la nostra buona musica Allora Rosi Devi smetterla Di fare le puzzette Nelle pause Per cortesia Perché qui L'aria diventa Invivibile E sanificazione gratuita Sfattiamo quest'altro mito Le ragazze scureggiano Le fanno le puzzette Va bene? Rosi magari no Però le altre ragazze Le fanno le puzzette Non è vero Puzzetta pure lei No dopo ti passo il numero Della regina Delle puzzette Ah ok Perfetto Allora Siamo giunti al finale Siamo giunti alla fine Anche questo giovedì lavorativo È volato È volato via Lo so che vi dispiace tanto Ma a noi No Perché abbiamo finito Quindi Non abbiamo finito di lavorare No Chiaramente Vi rinnoviamo L'appuntamento Domenico alle 17 Sul nostro sito www.radioswingsat.com Per ascoltare La replica Di questa fantastica Puntata Numero 28 Dovrebbe essere questa Dovrebbe essere 28 Mi sono un attimo Persa con le varie cose L'argomento Della prossima Per di tempo Per di tempo Me lo ricordo L'argomento Della prossima settimana Sempre tema Vacanze Vogliamo che voi Spremiate Proprio le meningi E ci raccontaste Degli animatori Proprio Da incubo Quelli peggiori Quelli peggiori Della storia Quelli che proprio Madonna Più terribili Più terribili in assoluto Cioè che siete contenti Di essere tornati a casa Dopo la vacanza E spero di non essere Fra quelli Grazie Lo spero anch'io Va bene Va bene Va bene Come ci possono seguire Ancora Ci possono seguire Come sempre Tramite i nostri social Quindi Facebook Twitter Nostro canale YouTube Nostro canale IGTV E ci possono anche Scrivere su WhatsApp Al 327 5329058 Visitate chiaramente Come sempre Il nostro sito www.rodioswingset.com Vi diamo appuntamento A giovedì prossimo Alle 17 Io ringrazio Rosy Cicarone Io ringrazio Roberto Leone Un bacione a tutti Ciao 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 Grazie.